bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi sebbene si faccia sempre tanta fatica in questi giorni abbiamo un bel po di news davvero interessanti per quello che riguarda il futuro di fortnite vi faccio vedere un paio di video che sono saltati fuori nelle ultime ore ma l'argomento più importante di oggi è l'aggiornamento del rift beacon e lo vedremo e lo vedremo prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che si stanno iscrivendo al secondo canale quello dedicato alla batteria xyuder best moment e oggi esce alle 14 il best di fortnite invece sul secondo canale e soprattutto tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone quando scioppano di prepotenza grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e ora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e parliamo proprio di lui no non lui inteso come la skin aim ma lui inteso come il bot sì perché ragazzi si è discusso e si continua tuttora a discutere del dell'argomento bot li abbiamo visti quando hanno tolto praticamente il lo skill base matchmaking nelle squad piena così di bot lo abbiamo visto anche all'inizio di questo capitolo di fortnite dove le lobby erano veramente ridicole e c'erano bot in giro bot di qua bot di là ma forse non sapete che nei meandri di fortnite i bot erano già programmati per essere introdotti nelle partite del battle royale dalla season 8 vi faccio vedere uno spezzone che ci riporta indietro con gli anni e come vedete questo personaggio in realtà non è mosso da un giocatore ma è mosso da un computer e i bot erano programmati per fare questo lavoro qua praticamente spammavano semplicemente di prepotenza i 90 quindi già da ben quasi due anni epigames aveva in mente di fillare le lobby con dei giocatori mossi appunto appunto dal computer è riuscito a farlo bene non lo so quanto si è riuscito a farlo bene però io reputo che siccome la frequenza di giocatori è alta ancora su fortnite fillerei di più una lobby o diminuisci i giocatori se pensi che non ti riempono oppure provi a fare le lobby da 125 quindi meno server ma server più pieni comunque queste sono semplicemente le mie idee andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché eccolo qua ragazzi l'immagine porterà ancora una volta in molti indietro nel tempo qua siamo se ve lo ricordate nella strada che collegava palmetto paradisiaco se non ricordo male a a prodo avventurato dove si formò uno dei tanti rift beacon nella season 10 perché parliamo adesso che siamo nel capitolo 2 della season 10 perché ragazzi il rift beacon appunto era questo marchingegno in grado di modificare morfologicamente e completamente una porzione di mappa quindi in poche parole cambiava le città lo abbiamo visto esempio per tilted town che è stata poi fatta in versione far west poi è stata ritrasformata e vi ricordo che quando il rift beacon invece si attivava squarciava il cielo con un raggio e apriva un nuovo rift quello che vi ho pubblicato ieri pomeriggio sulla mia pagina instagram è questa immagine molto interessante ed è veramente una roba bella calda praticamente è stato aggiornato il codice sorgente del rift beacon nel primo pomeriggio di ieri ora perché non lo sappiamo ovviamente però mi viene in mente il video news che vi ho fatto un paio di giorni fa dove vi ricordate che nella visione di jonesi della season 9 quindi dove c'erano i fort bite il disegno che è apparso si vedeva che c'era già disegnata la diga che è arrivata in questo capitolo con sopra un rift non è che per caso non è che per caso ora non è detto non è detto potrebbero aver aggiornato semplicemente l'immagine ma la cambieranno poi però si fortifica la teoria che un rift potrebbe aprirsi sopra la diga magari andare storto qualcosa e la diga stessa inondare la mappa non lo sappiamo però ci sono molti elementi che ci fanno pensare che non siamo molto lontani dalla soluzione andiamo avanti a parlare di un altro argomento ragazzi perché lo avete intravisto prima non sono riuscito a bloccare il video parliamo di un nuovo bug io pensavo che l'ultimo bug scoperto era quello della cabina telefonica dove tu entri che sei nella tempesta esci che sei in una posizione molto molto strana no invece se siete giocatori da mech ok potete sfruttare questo bug che è veramente assurdo togliamo un attimo il display ma andiamo a vedere lo spezzone video perché questa è la schermata di caricamento che è in incaricamento appunto il gioco un attimo che lancio il video il loading e d'un tratto ti fa entrare in game praticamente a metà partita è veramente follia questa cosa non è neanche stata buggata neanche stata fixata e c'è da oramai un bel po' di giorni io lo sono venuto a scoprire da poco forse perché in pochi usate il mac per giocare a fortnite però è veramente pazzesco che tu possa tranquillamente loggare in un match aspettare il bug della schermata di caricamento e poi essere proiettato in partita solo a metà game tanta tanta roba uno degli ultimi bug di questa season ma non l'ultimo io non ci credo che smetteranno di farci i bug sempre più assurdi e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto interessante perché forse non ve lo ricordate ma ci sono di nuovo degli aggiornamenti per il nuovo starter pack non sappiamo ancora il nome però sappiamo che epic games sta lavorando e probabilmente lo starter pack verrà rilasciato nella patch 13.20 vi ricordo che nel video di ieri abbiamo parlato appunto del fatto che siano partiti i test della patch 13.20 che includerà probabilmente anche questo starter pack il nome non lo conosciamo la chiamiamo molto amichevolmente yellow jacket quindi giacchetta gialla come vedete ha il piccone la schiena è molto carina in braccia attenzione in braccia una mitraglietta corta un'arma tipica che si trova nei forzieri degli scagnozzi quindi potrebbe essere un altro easter egg o comunque un'altra indicazione che non tutto andrà via nella stagione 3 di quello che già sappiamo di questa season ovviamente 600 v bucks ma la cosa in 600 500 non mi ricordo quanti v bucks vengono dati con il con lo starter pack o un lapsus freudiano in questo momento non me lo riesco proprio a ricordare vi chiedo scusa il prezzo è 4 99 ovviamente come sempre però sappiamo che questo set avrà anche un deltaplano che lo completerà il deltaplano però sarà semplicemente scioppabile qualora volessimo appunto avere il set completo e volevo fare una carrellata prima di salutarvi di alcune skin che sono presenti in game e che ancora non sono state rilasciate partendo dal dark archetype quindi l'archetipo nero con tanto di backpack di colore nero questa che è stata spoilerata comunque liccata nella patch credo la 12.50 neanche la 12.60 bellissima una specie di bo ninja alla mascherina è davvero carina una ragazza con un outfit extra ovviamente una delle skin l'ultima skin leggendaria che vedremo prima dell'evento quindi cyclone o ciclone se lo vogliamo chiamare in italiano invece come vi dicevo leggendaria airhead questa è vecchissima raga questa è dentro da forse addirittura prima del primo capitolo di fortnite e non si capisce perché non venga ancora rilasciata abbiamo fatto delle delle ipotesi un mesetto fa sul fatto che questa potrebbe essere una skin con una nuova collaborazione con le airhead quindi delle caramelle che esistono in america anche perché il logo è molto molto simile e poi abbiamo invece l'ultima skin è trovata nella patch 12.60 questa ragazza molto carina molto colorata che però ancora non è stata rilasciata 3 anche le coperture ancora non disponibili pubblicamente la prima quella del rainbow davvero meravigliosa credo che sia addirittura animata ne abbiamo un'altra che siamo sicuri invece essere animata questa questo flusso verde fluo che è davvero bello da vedere sopra gli scar e per chiudere ragazzi una skin che si chiama neon una copertura che si chiama neon che curiosamente nell'immagine è gialla ma poi vista sulle armi diventa con il bordo dell'arma verde fosforescente e terminiamo il video con due immagini di due spray ancora non rilasciati il primo è un lama ciccione poche parole un unicorno più che un lama che fa piovere da una nuvoletta e chiudiamo con invece i pesi di miascolo perché vedo che ci è disegnato appunto la faccia di un gatto insomma ragazzi anche per oggi ho le news sono riusciti a dirvele vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di fare un salto sul secondo canale di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao